È rivolto a persone di età compresa tra 55 e 75 anni che consumino un pacchetto di sigarette al giorno da più di 30 anni oppure che abbiano smesso di fumare da meno di 5 anni. Lo screening polmonare che vede insieme 18 centri di eccellenza nazionali della RISP, la rete italiana screening polmonare tra i quali c'è Pescara. E oggi, in occasione della giornata mondiale senza tabacco, il progetto finanziato dal Ministero della Salute è stato presentato alla stampa. In videocollegamento, il direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, Ugo Pastorino, che ha promosso a livello nazionale lo studio RISP, ha ricordato che solitamente i casi di tumore polmonari vengono diagnosticati quando sono già in stato avanzato. Ma se si interviene in maniera precoce, le neoplasie sono curabili mediante interventi poco invasivi. L'attacca a basso dosaggio è lo strumento più idoneo per la diagnosi precoce, ha detto l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri. Loro che hanno i 55 e i 75, queste persone possono essere sottoposte allo screening importante per ridurre e prevenire quella che può essere la grande incidenza purtroppo di mortalità che questo fumo purtroppo produce come tumore al polmone. Il tumore polmonare è annoverato tra i big killer delle neoplasie. In Europa 700.000 persone all'anno si ammalano, in Italia i dati parlano di 43.000 all'anno. La mortalità è molto elevata e la sopravvivenza a 5 anni è stimata intorno al 15-20%. Ha evidenziato il responsabile dello studio RISP della ASL di Pescara e dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica e supervisore del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del tumore polmonare Antonio Fabio De Filippis. 7 persone su 10 si presentano con una malattia già in stadio avanzato e soltanto 3 di queste sono suscettibili di trattamento chirurgico. Quindi il nostro impegno, l'impegno di tutti deve essere quello di promuovere le campagne di screening e promuovere la prevenzione primaria.